Ciao ragazzi, allora prima di iniziare il video ci tengo a precisare che a Los Angeles sono andato principalmente per visitare Universal Studios e Disneyland quindi per vedere il resto della città abbiamo avuto in tutto solo un pomeriggio circa e questo video farò vedere solo quel pomeriggio uscirà a breve invece un vlog a Universal Studios e uno a Disneyland vi consiglio assolutamente di non perderli perché sono di tutti i vari vlog che ho fatto in America sicuramente i più belli e i più divertenti detto questo vi lascio al video, ciao! Ho trovato il libro di Peppa Pig in americano, lo voglio subito, sfogliamolo Peppa Pig and the Great Vacation, bella Peppa Ciao, siamo a San Francisco per andare a Los Angeles con l'aereo e anche in questo volo l'aereo puzza di culo Arrivati a Los Angeles e secondo voi qual è la prima cosa che ho fatto appena sono arrivati a Los Angeles? Andare in bagno ovviamente Ciao, ciao! Abagnani, oh yeah, oh yeah Abagnani, oh yeah, oh yeah Rika, aivaga, no, 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 no Let me see you, too Che figata, quanto costa? 30 dollari, che brutto proprio Sono la persona più felice del mondo Qua c'è il poliziotto con la macchina che ha investito il palo Cioè questo è un posto bellissimo Ho fatto i giocapremi dei canestri e ho vinto questo Go, 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 go AAAAAH